Io potrei anche pensare un'idea tipo, ok il pronto soccorso, ma scusate, quando io me ne vado a Modica, al pronto soccorso di Modica, e devo aspettare sette ore per essere visitato, ma che schifo è questa cosa? È un'inciviltà, e quindi prima tocca il nostro pronto soccorso, lo difenderemo a tutti i costi, perché quando io faccio le battaglie per i piccoli ospedali, per chi la faccio? La faccio per Comiso, ma la faccio per Cicle, perché i piccoli ospedali sono momenti di salute per tutti, io non accetterò mai che questo ospedale venga chiuso e chi vince! Bravo! Bravo!